Tornata a casa da un viaggio a New York, dove era andata per alcuni progetti di lavoro, Chiara Ferragni ha trascorso il pomeriggio al parco con i figli sulle giostre, raccontando ai followers che una delle sue attività preferite è da fare con loro. Poi sul suo profilo Instagram ha voluto parlare a cuore aperto mostrandosi fragile e con gli occhi bagnati dalle lacrime, è un periodo doloroso privatamente di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante, quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono più nei miei pensieri, faccio quel che posso, faccio sempre quel che posso, a volte sono più in up e altre più in down e penso sia giusto farvi vedere questa parte. L'influencer non vuole più nascondersi, anche se non può condividere ogni dettaglio della rottura con il marito Fedez, crede che sia giusto smettere di fingere. Non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua, a volte vorrei essere meno forte, solo un po' più serena. Grazie a tutti.